Volevo iniziare il video di oggi parlandovi della giornata di ieri perché sotto certi punti di vista è stata davvero traumatizzante e veramente mi ha fatto riflettere tantissimo sono successe un sacco di cose è stata veramente una giornata complicata per me sapete già come funzionano questi video non ci saranno tagli né tantomeno dell'editing neanche ragazzi ovviamente copioni, monetizzazione non metto musichette tristi per fare like non è quello che voglio non voglio sfruttare la storia che vi sto per raccontare e l'insegnamento che poi voglio trarne per fare like facili sapete che non è il mio obiettivo quest'oggi volevo parlarvi di un'esperienza che ho vissuto ieri una sorta di esperienza chiamarla esperienza è riduttiva insomma non saprei nemmeno bene come definirla un evento in particolare che diciamo mi ha fatto riflettere molto che volevo condividere con voi per poi per l'appunto lanciare un messaggio anche per permettervi in un qualche modo di comprendere me perché come nei rapporti tra amici capire l'altro è importante e facendo questi video io vorrei far capire un po' di più quello che magari provo oltre che magari semplicemente fare video ma poi a questo ci arriveremo ieri come vi dicevo è stata una giornata particolare perché ieri tutto è iniziato dall'episodio della crazy lock che non è andato in liste iscrizioni praticamente di base cosa è successo voi andavate sulla vostra lista iscrizioni e il mio video non appariva tant'è che è andato malissimo all'inizio e lì ho avuto una una crisi abbastanza importante di quelle che capitano sempre più spesso in questo periodo in cui youtube non riesce o non vuole magari non riesce e non vuole migliorarsi e risolvere i suoi problemi e quindi lascia noi content creator in un baratro sempre più allucinante sempre più grande c'è stato veramente un momento nella giornata di ieri in cui ho detto ma io la live delle 19 non la faccio ma io non ce la posso fare a fare la live delle 19 e stavo proprio parlando con la mia ragazza che tra l'altro l'ironia della sorte era una mia fan quindi poi stavo parlando proprio con la persona giusta di come stavo svarionando totalmente stavo parlando di come su youtube la gente e i fan che ti seguono siano in realtà interessati solo al video in sé e non alla persona e stavo svarionando perché avevo questa crisi qua contro youtube allora a un certo punto ho cominciato veramente ha cominciato questo pensiero a venirmi in testa ecco ma perché io devo fare video per delle persone che poi di me non si interessano e si interessano solo di quello che carico e poi è proprio nel momento e infatti io caro mio ti mando a fanculo ma ti mando a fanculo nel senso positivo perché tu hai hai colto il momento più giusto e allo stesso tempo più sbagliato che potessi cogliere perché mi è arrivato un video di pokemon youtube ex che ho aperto con 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 svogliatezza mi verrebbe da dire perché ecco fra parentesi quando dovete mandarmi dei video mandatemi li sui social non mandatemi su youtube perché youtube li manda automaticamente in spam e niente ho aperto questo video molto svogliatamente era un link ho fatto vai premiamolo ora il video non lo metterò qua all'interno di questo vlog preferisco citarvi direttamente qui sotto in descrizione con il link il video del ragazzo così che poi possiate andare a vedere il video sul suo canale in realtà è un video molto semplice è lui che parla di sottofondo però le cose che ha detto mi hanno fatto mi hanno fatto quasi piangere e e si perché è stato è stato impressionante il tempismo in cui nel momento nel momento in cui io stavo per l'appunto parlando con la mia ragazza di questo mio dubbio che in quel momento lo stavo veramente smarronando stavo impazzendo e io mi stavo dicendo e non è la prima volta che lo penso tra l'altro e stavo dicendo ma io faccio i video per delle persone a cui interessa semplicemente fare 20 minuti di divertimento e poi staccare e dimenticarsi di quello che hanno appena visto e appena per l'appunto ho parlato di questa cosa qua mi è giunto questo video l'ho aperto e lì sono sono esploso perché mi sono accorto che in realtà non è così sostanzialmente ieri ho fatto la live con questo peso ieri ho fatto la live pensando a queste cose qua e sostanzialmente ho fatto la live 20 minuti dopo essermi un attimo tranquillizzato e aver riflettuto perché probabilmente se non fosse stato per quel video la live non sarebbe andata come è andata probabilmente sarebbe finita molto prima e potrebbe anche non essere mai partita magari mi sarei inventato una scusa qualcosa non ho internet insomma non sarebbe stato quello che è stato e quel video lì vi dicevo mi ha fatto davvero tanto 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 riflettere ma non finisce qua la situazione perché poi io ho visto anche la storia di Michele penso che molti di voi già la conoscano perché su internet sta girando abbastanza io non sono qui a parlarne non sto qui a discuterne vi linko piuttosto qui sotto il video di Aaron Blaze che che vi invito a vedere perché è veramente bello anche il contenuto che manda io non vi sto a parlare della storia anche perché sarai sarai ipocrita con questa storia c'entro poco però volevo prenderla come esempio e volevo prendere anche il video di Pokemon Mewtwo EX come esempio per parlarvi del fatto che in realtà noi youtuber spesso non ci accorgiamo di di coloro a cui stiamo parlando perché a volte sono talmente tanti e sono talmente in incognito dietro uno schermo che è difficile concepire il fatto che potresti parlare a delle persone particolari e per alcune persone potresti valere così tanto anzi come vi dicevo prima molto spesso e questo magari è un problema mio è una paranoia mia però io sono fatto così e sono molto paranoico l'avrete notato sicuramente molto spesso il dubbio che ci viene è ma ma io per chi sto facendo video ma se poi tutto questo è scema nel nulla perché io dovrei fare dei video per delle persone che sostanzialmente di me non sono interessate a me non sono interessate e poi dopo mi sono giunte queste notizie ho pensato che che cavolo stavo dicendo stronzate perché a volte a volte le persone si aggrappano a youtube per uscire da delle situazioni e io ho anche delle esperienze molto vicine a me che che lo confermano e paradossalmente paradossalmente le ho avute talmente tanto vicino che non riesco a concepire come io possa essermene dimenticato scusate ma parlare di quest'ultimo pezzo di quest'ultimo esempio non è non è semplice da un punto di vista proprio psicologico argomentativo qualche mese fa anzi quasi un anno fa secondo me mi iscrisse un ragazzo in in ospedale per la chemio per la scusate ma io purtroppo ho questo tipo di reazione quando parlo di cose di questo tipo mi scappa la risatina isterica e questo ragazzo mi scriveva per l'appunto per la chemio e sono otto mesi che non commenta i video io mai come oggi e come ieri ho sperato in cuor mio che abbia cominciato a fargli schifo il mio canale che si sia disiscritto e e questo sono andato sono andato a riprendermi questi messaggi dopo aver dopo alla fine della giornata verso le 11 di sera e in breve questo ragazzo mi scriveva che lui utilizzava youtube e in particolare i miei video in ospedale per distrarsi e e questo può essere visto come un nulla come dici ma vabbè ok però in realtà è davvero importante perché poi avrei altri esempi da citare ma per il momento evito ci sono davvero tante persone io credo tra i miei iscritti che che in me forse ma in me ma anche in altri youtuber vedono queste queste figure di riferimento vi invito di nuovo a vedere il video di Aaron Blaze su su Michele per per capire un po' meglio quello di cui sto parlando come ho detto su instagram questi video qua a volte possono non piacere io lo capisco però è una cosa di cui sono convinto e che ho scritto in una stories su instagram lo youtuber non è un intrattenitore e basta lo youtuber è un fenomeno sociale lo youtuber è un influencer lo youtuber è la nuova televisione siamo io non in particolare perché non ho così tanto riscontro ma siamo le nuove celebrità siamo mettetelo tra tante virgolette e io sono profondamente convinto che lo youtuber abbia un forte ruolo sociale un forte ruolo di promulgatore di idee un forte ruolo a livello di messaggi da mandare penso che gli youtuber soprattutto quelli più grandi potrebbero davvero cambiare il mondo potrebbero davvero cambiare le generazioni di piccole persone se solo lo volessero alcuni lo fanno ma se solo lo volessero potremmo veramente essere di esempio per le persone io vorrei esserlo con questi messaggi io credo davvero che tra i miei iscritti ci sarà sicuramente anche quello che mi segue solo per farsi due risalde ma io sono sicuro al 100% anche perché ai raduni a volte mi arrivano anche certe persone molto 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 timide e delle quali bene o male riesco a immaginare la situazione sono tendo a essere molto empatico quindi più o meno riesco a immaginare una persona da come si atteggia come può essere nella vita reale più o meno questo poi ovviamente ci sono i casi e io non lo so però io sono convinto che a parte per quelle persone che sono interessate magari solo alle interviste doppie guardano solo le interviste doppie scusatemi o cazzi e mazzi ci sia anche una forte percentuale di persone che sono legate quasi più a me che ai video e che in generale vedono nei miei video o i miei video io parlo al personale ovviamente perché sono io ma non è non è desiderio di essere egocentrico è una generalizzazione sulla mia persona perché io parlo per me ovviamente e ho notato e ve lo dico queste le esperienze di ieri che mi hanno fatto quasi quasi piangere anzi penso di di avere effettivamente pianto in alcune situazioni mi hanno fatto per l'appunto capire scusate se sto perdendo il filo del discorso ma è complicato che c'è davvero tanta gente che nei video su youtube vede vede una valvola di sfogo io sono non sono contento sono onorato di poter significare così tanto per delle persone di poter significare una distrazione da una chemio come di poter essere un esempio al cartoon mix un ragazzo mi ha detto che sono sono quasi un idolo che mi si dovrebbe fare una statua che sono il miglior pocket uber sono tutte cose belle nel momento in cui tu sei interessato alla persona e non al contenuto perché anche al cartoon mix uno se è interessato al video non viene a raduno e parla per un'ora e viene a mangiare la pizza viene per l'autografo per vantarsi con gli amici questa è la forte differenza secondo me che c'è tra tra alcuni alcune community e la mia community noi abbiamo creato e scusatemi se il video perde un po' di serietà ma noi abbiamo creato un culto su un uccello con un gambo con un porro e questo è importante perché è un nulla è un nulla eppure siamo questo tipo di community chiedo davvero venia per quest'altro video molto mosce molto triste però secondo me era un video che non dico che andasse fatto che però era bello fare perché come vi dicevo prima lo youtuber non è solo un intrattenitore non siamo qui a fare la muffa sugli stessi contenuti e non siamo qui solo ed esclusivamente per farvi fare delle risate ma siamo qui anche o meglio io ritengo di essere qui anche per dare quelli che io credo siano dei messaggi belli e il messaggio sostanziale di questo video è che noi o meglio io sono orgoglioso della mia fanbase e che anche voi dovreste esserlo di voi stessi ripeto la storia del ragazzo di Michele mi ha colpito molto non volevo parlarne specificatamente in questo video perché non è mio non è mio compito non sono stato coinvolto nella storia sono stato sarei ser sarei ipocrita se ne parlassi però volevo prenderla ad esempio per far capire quanto alcune persone possano tenere a degli youtuber dei contenuti virtuali e quindi volevo non volevo like per questo video perché non è un video che merita like secondo me non è un video che merita mi piace non è un video che merita assolutamente un pollice in su perché è fatto male sostanzialmente sono io che parlo avrò fatto tre tagli in tutto editing di merda piuttosto vorrei dei commenti vorrei leggere dei vostri commenti vorrei leggere le vostre storie se ne avete da raccontare se volete magari qualche condivisione per raggiungere qualcun altro mi piacerebbe davvero sarebbe molto interessante a mio avviso io so che tratto pokemon e che ad alcuni potrei sembrare fuori luogo però secondo me in un regno come il social che che è la palude della superficialità secondo me a volte portare certi messaggi può essere può essere importante anche se tratti pokemon perché io sono una persona al di là di creepy e questa è una cosa fondamentale sono la stessa persona per carità però quello che io rifletto nei video è un 5% becero di quello che io sono veramente e niente sostanzialmente questo siate orgogliosi di voi stessi e siate orgogliosi di quello che fate perché qualsiasi cosa sia per voi è importante e soprattutto non vi vergognate se siete così attaccati uno youtuber non vi vergognate alle fiere a venirci a parlare perché io per due parole con un fan che magari vede in me qualcosa di particolare le scambierò sempre sempre a prescindere io sapete questi video non so come concluderli vi ricordo se volete un commento spero di aver fatto capire l'idea sono stato molto confuso lo so lo sono tuttora probabilmente su quello che volevo dire però anche dal mio punto di vista voleva essere uno sfogo pensavo di far durare questo video 7 minuti ne è durati 15 dettagli direi di non peggiorare la situazione domani uscirà probabilmente il laboratorio di creepy vi farò sapere su instagram seguitemi su instagram e niente ragazzi noi ci beccheremo domani alle 17.30 con un nuovo video e ciao